Avrebbero procurato alla società che gestisce il ristorante Le Lampare al Fortino un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a 60.000 euro. Per questo motivo sono iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in falso e abuso d'ufficio il sindaco di Trania Medeo Bottaro ed altre sette persone tra assessori, dirigenti comunali ed ex componenti dell'esecutivo. La vicenda su cui la procura di Trania ha deciso di accendere i riflettori riguarda la delibera di giunta approvata il 6 settembre 2016 con cui il comune stabilì di attivare il recupero dei debiti della società Le Lampare fissati in 191.000 euro relativamente ai canoni non pagati per l'affitto della chiesa sconsacrata di Sant'Antuono in cui assede l'attività di ristorazione. Una cifra frutto di una compensazione che secondo il PM Francesco Aiello non poteva ricevere il via libera. Dalla somma da pagare vennero infatti defalcati 60.000 euro corrispondenti alla spesa per i lavori di demolizione e ricostruzione del solaio eseguiti dalla società Le Lampare sull'immobile di proprietà del comune. Per la procura tranese l'esborso dei 60.000 euro doveva essere invece tutto a carico del privato come stabilito d'altronde dal regolamento comunale sulla gestione del patrimonio. L'iter della transazione inoltre non avrebbe previsto il necessario passaggio dal consiglio comunale. L'accusa di falso riguarda invece la possibilità palesata come rischio all'interno della delibera di giunta che la società Le Lampare potesse appellare una sentenza del tribunale civile con cui erano state respinte le sue pretese creditorie poi portate in compensazione. Rischio che in realtà non esisteva chiarisce la magistratura tranese dal momento che la sentenza era passata in giudicato e non era più appellabile. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato oltre che al sindaco Bottaro anche all'assessore al bilancio Luca Lignola, all'ex dirigente del settore patrimonio Giovanni Di Donna, al responsabile dell'ufficio legale Michele Capurso e agli ex assessori Giovanni Capone, Raffaella Bologna, Deborah Ciliento e Grazia Di Staso. Il sindaco Bottaro si dice fiducioso sull'esito della vicenda chiarendo che l'operato della sua giunta è stato sempre improntato alla massima trasparenza ed avallato dai pareri dei dirigenti comunali. Le indagini della procura furono avviate in seguito ad un esposto del movimento Traniacapo i cui esponenti furono poi denunciati per diffamazione dal titolare della società le lampare.